C'è una stagione alla quale noi avremo centinaia i ragazzi che si laureano Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea Mandiamo i carampinieri, rimandiamo con il lanciafiamme Ma è una festa di laurea, ma fatela fra due mesi, tre mesi, tre mesi E' incredibile Mandiamo i carampinieri, rimandiamo con il lanciafiamme Ma è una festa di laurea, ma fatela fra due mesi, tre mesi, tre mesi E' incredibile C'è una stagione alla quale noi avremo... E' incredibile Mandiamo con il lanciafiamme Si laurea Andiamo con il lanciafiamme C'è una stagione alla quale noi avremo... E' incredibile Mandiamo con il lanciafiamme Si laurea Andiamo con il lanciafiamme Andiamo con il lanciafiamme Andiamo con il lanciafiamme Andiamo con il lanciafiamme Per definirle in mascherine Ecco scoperto che hanno una grande efficacia Per pulire gli occhiali Diciamo dai vetri Sono veramente un prodotto eccezionale Maschera per balli Maschera per balli Maschera per balli Andiamo con il lanciafiamme Si laurea Andiamo con il lanciafiamme Si laurea Andiamo con il lanciafiamme Si laurea Andiamo con il lanciafiamme Andiamo con il lanciafiamme